Immagina un mondo sospeso nel tempo, un attimo di vita congelato in una luce che sembra svelare e allo stesso tempo nascondere. Le opere di Edward Hopper ci accompagnano in un viaggio intimo dove la vera protagonista è la luce, non il colore, non i dettagli, ma quella forza espressiva capace di rivelare la realtà più profonda del momento. La luce diventa il tramite per un racconto di vite ordinarie, ma vissute in uno spazio assoluto. Nelle sue tele Hopper cattura l'essenza dell'orizzonte, una linea che distende l'animo umano e invita alla contemplazione. L'orizzontalità delle sue composizioni non è solo una scelta stilistica, ma una dichiarazione emotiva. È calma, è silenzio, è la vita che scorre in quei momenti quotidiani, quasi invisibili, momenti che, grazie alla luce, diventano eterni. Hopper stesso affermava, mi interessa più la luce del colore. In ogni dipinto, la luce abbraccia edifici, persone e paesaggi, trasformandoli in scorci intimi. Non ci sono gesti teatrali né espressioni esasperate. La vita è catturata in attimi secondari, quelli che normalmente passerebbero inosservati. I personaggi sembrano essere sorpresi da uno sguardo discreto, ripresi nella loro vulnerabilità, in un mondo che sembra osservarli senza giudicare. E così, noi spettatori ci troviamo di fronte a scene che non raccontano una storia definita, ma che lasciano spazio alla nostra interpretazione. Anche quando percepiamo solitudine o isolamento, è una solitudine che non pesa, una distanza che Hopper stesso considerava esagerata. Non è la solitudine il fulcro della sua arte, ma piuttosto quel senso di assoluto che emerge dal vivere quotidiano. Il tema della solitudine è esagerato, diceva Hopper. Ciò che voleva davvero dipingere era la luce che scivola su un lato di una casa. In quel gioco di luci e ombre si nasconde la sua vera esperienza intima, quella che non può essere descritta a parole. Nelle sue opere, l'inserviente, il benzinaio, il cantante, tutti trovano un posto universale, catturati in una realtà che trascende i loro ruoli. La luce diventa un veicolo di intimità, una finestra sull'anima, e noi, osservatori silenziosi, ci troviamo a contemplare non solo la scena ritratta, ma il nostro stesso riflesso in essa. In un mondo fatto di gesti eclatanti e narrazioni gridate, Hopper ci ricorda che la vera essenza della vita è spesso silenziosa, e la luce ci consente di sentirci vivi. La luce, in Hopper, è l'intimità stessa, quel filo sottile che unisce osservato e osservatore, in una reciproca ricerca di significato. Non si tratta di raccontare una storia definita, ma di fissare su tela il momento in cui la realtà diventa sublime, quando ciò che è ordinario si trasforma in assoluto. Le sue immagini ci invitano a ringraziare la luce per averci offerto questi frammenti di vita. Se ti appassiona l'arte e vuoi scoprire i segreti nascosti dietro i capolavori più famosi e controversi, sei nel posto giusto. Iscriviti al canale per non perdere nessun video. Lascia un like se ti è piaciuto e facci sapere nei commenti cosa ne pensi.